Ri buongiornissimo a tutti i belli e brutti, secondo video di giornata ovviamente secondo perché non posso attaccare tutto quanto in un video se no mi verrebbe un video di mezz'ora e non posso secondo video in cui parliamo del polpo e del signor Allegri del polpo perché ho sentito robe agghiacciandi e adesso qui bisogna una volta per tutte finirla guardate ragazzi è veramente quando ho sentito io non sono un accanito fumatore ma ho tirato fuori la pipa di nuovo la sigaretta la sigaretta elettronica, mi è venuto nervoso che ho sentito certe robe che questo qua non vuole andare via dalla Juventus porca di una puttana, solite robe che questo vuole rimanere alla Juventus a giocarsi le sue carte che addirittura si calerà lo stipendio di qua di là dopo ho sentito anche Marcello Chirico lui è innamorato di Pogba ha detto che lui è anche un po' il 50% perché lui prima dell'infortunio lì lo ha visto quando lo metteva dentro qui 20 minuti era tutta un'altra Juventus si ho capito ma quanto tempo è passato sono passati già due anni è lì Marcello sono passati altri due anni questo qua è stato fermo questo qui intanto è stato fermo questo qui si sarà abbuffato questo qui lo devi tornare a mettere in forma ritmo a partita poi è tutto carolato questo qua questo qui è un rotame Marcello questo è un rotame prima di tutto prima di tutto poi secondo la maniera in cui si è comportato con la dirigenza quando gli ha detto di andare a operarsi subito che almeno metà stagione la recuperavi lui ha voluto fare di testa sua e lo sappiamo com'è andato secondo prendeva per il culo i tifosi lì con i selfie lì che faceva il coglione lì con i sci che prendeva per il culo i tifosi che lo contestavano e poi per ultimo i soldi cosa devi ma tu lo sai quanti soldi prende questo qua e se passerà lo stipendio devi sempre pagare uno che la Juventus non lo vuole più non lo vuole più questo giocatore qua perché questo è stato solo che un problema Marcello tu sei innamorato e noi abbiamo le palle piene di questi problemi qua perché alla Juventus ci sono stati troppi problemi bisogna che la Juventus la strada l'ha già indirizzata dalla parte giusta e deve continuare in quella strada lì non tornare nella vecchia strada o per il cuore o Pogba o riprendere quello no basta con i ritorni basta con la gente rotta basta con i rompimenti di coglioni Marcello questo giocatore qua deve andare via deve andare via la Juventus l'ha già detto a recessione del contratto non gliene frega niente ha fatto delle questa cosa sua voglio rimanere sapete come i bambini piccoli voglio rimanere devi andare via devi andare via perché lui vuole vuole tornare ma a giocarti il mondiale e tu pensi che De Champ ti convochi in nazionale per il mondiale che non stai neanche in piedi ma io assolutamente no assolutamente no Pogba assolutamente no 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 via 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 e abbiamo ancora quei due o tre problemini che piano piano si stanno risolvendo non riprenderti in casa un problema che stavi risolvendo via aggiuntoli mi raccomando via questo qua via via perché anche perché non è normale di testa con i suoi voodoo voodoo con le sue robe di stregoni problemi con il fratello questo qui deve andare questo è un problema questo qua quindi fuori dalle palle poi parliamo di questo Allegri questo ragazzo mi ha fatto una domanda mi ha fatto una domanda qui si dovrebbe aprire un capitolo di mezz'ora qui cercherò di essere anche più più sintetico il più possibile allora tu mi hai chiesto che Allegri che danni ha fatto alla Juventus guarda che mi hai fatto una domanda che se io dovrei elencarti veramente tutti i danni che questo qui ha fatto la Juventus negli ultimi anni io cioè nei primi nei primi cinque anni i suoi danni non si vedevano perché avevamo i giocatori più forti ma queste sono cose dette trite e ritrite da tutti cioè non è che te le devo ripetere io sempre se vuoi ti faccio una piccola carellata così facciamo un video vi tengo compagnia ma i primi cinque anni i suoi danni i suoi danni venivano limitati dalla dalla forza dei giocatori poi come detto sempre da tutti che mi sono accorto anch'io alla fine di questo lui i primi anni andava bene segnavamo i primi due anni mi sono anche divertito io con lui ma perché perché aveva già la Juventus fatta da Conte è venuto aveva già tutto pronto lui poi a lui se notate bene per quelli che non l'hanno capito a lui gli compravano tutti tutti i giocatori che voleva a Conte non gli hanno preso niente a Sarri gli hanno lasciato una squadra tutta rotta a Pirlo gli hanno preso Kuluseschi cioè rendetevi conto ragazzi e a questo qua gli prendevano tutto che dirà Mandzukic gli hanno preso Ronaldo anche alla fine questo qua Di Bala Matuidi anche se era a fine Pjanic che era all'apice della della sua carriera Iguain 90 milioni per Iguain ma voi rendetevi conto cosa gli ha preso questo qua poi ha ereditato una squadra fatta quando ha messo lui mano nei momenti top della stagione si è vista la sua cagonagina a parte che questo qui è stato sfanculato da tutti ma lo sapete tutti quanti che Ronaldo l'ha mandato a fare in culo Tevez l'ha mandato a fare in culo Bonucci l'ha mandato a fare in culo ma tanti lo hanno mandato a fare in culo Dani Alves l'ha mandato a fare in culo Dani Alves è andato via per colpa sua Dani Alves a me che era una testa matta anche quello là però Barufa è con Di Bala e Di Bala lo ha detto io con lui non andavo d'accordo stranamente quando è arrivato Sari Di Bala andava d'accordissimo facevano le foto insieme erano come culo e camicia loro due c'è questo qua c'è con lui siamo andati nei cinque anni c'è questo qui ha rischiato di perdere uno scudetto con Napoli di Sarri questo qua con una delle Juventus più forti avevamo due Juventus questo qua ma tu ti ricordi io mi ricordo soprattutto una partita con la Lazio che ci hanno triturato con quel gol di Di Bala fantastico alla fine nel 95esimo che abbiamo fatto abbiamo messo non un pullman davanti la porta siamo andati a Madrid e vincevamo 3 a 0 questo qui perché aveva messo 3 a 0 arretrare la squadra lui aveva la fissazione di quando quando riusciva a raggiungere l'obiettivo di mettere il pullman davanti la porta di arretrare la squadra e siamo usciti col Bayern Monaco siamo usciti con Real Madrid e siamo usciti che avevamo la partita in mano e poi l'ultima partita quella lì che mi ha fatto girare i coglioni che lì ho capito anch'io ho capito che questo qui di calcio non ne capisce un cazzo la finale lì di Coppa Italia con l'Inter lì è stato vincevamo 2 a 1 erano fatti questi qua erano cotti bastava pressarli ancora un pochettino faceva il 3 a 1 e gli mandavi casa sei riuscito a perdere la finale di Coppa Italia 4 a 2 per quella testardagine di metterti in difesa sempre per quella testardagine con la Fiorentina un secondo tempo il 19% di possesso a palla e tu vuoi ancora ma come puoi difendere un allenatore del genere ma hai visto come è andato via come è andato via ma tu non hai mai sentito la gente perché queste cose qui le cancellano le cancellano dalle televisioni fanno sparire l'audio perché io so come lavorano quelli là ma tu non lo sai quante gliene dicono lì allo stadio del sottopassaggio tu non lo sai con la partita con lo Spezia che figura di merda quante che gliene dicevano di tutti i colori vattene a casa pezzo di merda di tutto gli dicevano di tutto il coso lì che gli gridava e questo qua si è messo contro il tifoso vieni giù vieni giù che ti faccio culo ma le figure di merda che ha fatto questo qua e poi alla fine si è congedato poi in una maniera becera becera gridando ha aggiunto lì vattene via non venire giù lì gridando come un pazzo lì su una cosa aveva ragione eh Rocchi Rocchi che qui più avanti ne vedremo delle belle con questa storia di Rocchi ma si è congedato in una da pazzo da pazzo quando è andato via questo qua guarda la Juventus come gioca un'altra Juventus non c'è voluto non c'è voluto tanto a me non pare che era tanto difficile quattro schemi quattro triangoli quattro un po' propositivo ti ricordo una cosa che in questi tre anni lui che è tornato adesso in questo momento eravamo già fuori dalla lotta per il campionato te lo ricordo che con lui in questi in questi tre anni eravamo già fuori nella lotta per il campionato eravamo già fuori dopo in ottobre così già fuori eravamo ti ricordi come ci hanno buttato fuori il Maccabi Haifa io quella lì guardate che è una macchia sulla sua questa qui veramente una macchia grande sulla sua sul suo necrologio lì della sua carriera è una brutta macchia essere stato buttato fuori dal Maccabi Haifa tre punti una vittoria su sei la più brutta Champions League fatta dalla Juventus e poi per tornare alla Juventus come si è presentato andando in in a Sky a sputtanare Pirlo e Sarri perché lui lui faceva questo lui sputtanava gli altri no? eh sì c'è guarda io me le ricordo tutte le cose sue le porcherie e le dichiarazioni che ha detto se volevo vincere andavo in un'altra squadra non tornavo la Juventus ma che cazzo dici? la Juventus deve vincere non è perché ci chiamiamo Juventus che dobbiamo vincere per forza ma non ti ricordi niente? allora forse tu non seguivi la Juventus forse tu seguivi qualche altra squadra perché questi tre anni qui soprattutto te li sei dimenticati caro il mio utente come si è presentato lui quando è andato Sky sputtanando e Sarri e Pirlo se una squadra dopo sei mesi se una squadra dopo sei mesi non non recepisce vuol dire che l'allenatore ha fallito e tu in questi tre anni che cazzo hai fatto? ti sei congedato con una Coppa Italia con tutti i soldi che hanno speso per te a nessuno hanno fatto il mercato che hanno fatto per te 90 milioni per Vlaovic più una ventina per Zaccaria 110 milioni a gennaio mai nessuno ha speso tutti questi soldi mai nessuna dirigenza ha speso tutti questi soldi a gennaio per un allenatore solo per lui lui voleva quello lui voleva quell'altro ha preso Di Maria ha fatto schifo ha preso Paredes Paredes ha fatto schifo gli hanno preso Kostic dopo un anno me l'ha distrutto era il miglior era il miglior terzino a sinistro della Bundesliga me l'ha distrutto Di Bala sappiamo la storia con Di Bala come è successo possiamo perdere un bimbo minchia sono sempre andato contro ok quando è tornato lui Ronaldo è scappato via è scappato via Ronaldo quando è tornato lui Ronaldo è scappato via non l'ha voluto perché Ronaldo rompeva gli equilibri pensatela come volete voi io sto nel mezzo su questa storia perché Ronaldo rompeva gli equilibri l'ha mandato via per Ken per Ken ha ripreso Ken ha voluto Ken venduto a 20 milioni ripreso a 30 per lui ha ripreso anche Ken e questo qua gli segnava quando gli sbatteva la palla contro ma gli hanno preso Bremer 50 milioni ma io neanche non mi ricordo quanti giocatori che gli hanno preso a questo li ha ripreso Pogba li hanno ripreso ma tu ti rendi conto quanti 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 giocatori li hanno preso a questo qua li hanno preso li hanno fatto la squadra nuova li hanno speso milioni su milioni su milioni su milioni per fare quelle figure di merda per far giocare chiesa 60 milioni per far giocare chiesa terzino e Pogba terzino e Di Maria terzino Higuain diceva che lui era il centrocampista aggiunto lui era il quinto centrocampista ha detto Higuain Di Bale ha detto che con lui non andava d'accordo ma te ne devo elencare ancora come siamo andati fuori con Correal Madrid che quella partita lì lui ha detto che l'unico sbaglio che ha fatto nella sua carriera è stata nella partita Correal Madrid l'unico sbaglio che tu hai fatto è stato nella partita contro Real Madrid che vincevamo 3 a 0 bastava cambiare il giocatore lì attaccavi gli facevi il quarto gol e li mandavi in casa erano bolliti anche con quelli là si è riuscito ad andare fuori Correal Madrid più bollito della storia in quella partita lì tu sei riuscito a farci perdere Champions League poi quella finale con la Barcellona non dico niente perché ce l'hanno mezza rubata quell'altra lì quell'altra finale sei riuscito a farci fare la figura più merdosa in finale di Champions League ce l'hai fatta fare tu tu ci hai fatto fare le figure più brutte più brutte in Champions League della storia della Juventus la finale persa e buttati fuori i gironi le figure più brutte che ci ha fatto fare nella storia alla Juventus ce le hai fatte fare tu lui vinceva perché aveva la squadra forte non per merito suo e chiudo qui te ne le ho elencate un po' di cose te ne le ho elencate senza parlare poi dei cose personali perché quelli lì se parliamo con l'Angiolini o quello che faceva lui in giro lasciamo perdere lasciamo perdere le cose personali sue che quelle cose lì non andiamo a toccare certi discorsi come voi no ti girano i coglioni ancora di più questo qua non è credimi che non è a bolla con la testa quello là non è a bolla non è a bolla di fatti nessuno l'ha voluto nessuno l'ha voluto sta allenando ora no perché nessuno lo vuole nessuno lo vuole a parte che costa un botto un botto questo qui può vincere qualcosina se gli dai la squadra fatta se lui arredita una squadra fatta e pronta lui potrebbe vincere sì con l'Inter hai la squadra fatta te la metti là già fatta già fatta da Inzaghi tutto quanto potrebbe vincere così se gli dai una squadra da ricostruire poi con i giovani non ci azzecca un cazzo lui gli è dovuti far giocare perché aveva tutti quanti erano otti fuori perché con lui si rompevano tutti tutti quanti avevamo fuori ma una volta sola in otto anni una volta sola in otto anni abbiamo avuto la rosa al completo con lui una volta sola fai tu ecco ecco adesso ti ho risposto non mi è occorso neanche di farmi il bigliettino perché me le ricordo talmente tutte le porcate sue le porcate sue me le ricordo talmente tutte talmente le ho limpide splendenti ecco adesso ti ho fatto un organigramma delle porcherie di questo qua se al posto suo in panchina c'era un Antonio Conte un Tiago Motto io penso che una Champions League io una Champions League la portavamo a casa se c'era un altro in panchina al posto suo uno che aveva un po' di più palle uno che osava un po' di più una Champions League con quello squadrone che avevamo i primi cinque anni soprattutto una Champions League la portavamo a casa difatti li facevano tutti così perché quello lì è un cagone è un cagone come allenatore e come persona è un cagone vi lascio perché se no qui esforiamo un bacione a tutti belli e brutti adesso ti ho fatto ti ho risposto utente ok queste sono cose che le abbiamo ritritte 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 che gli utenti già le sanno ma le sanno già tutti queste cose qua difatti non c'è più nessuno sono tutti spariti gli allegriani ne sono rimasti qualcuno così sporadico sono spariti sono spariti ti ringrazio ti saluto saluto anche te saluto a tutti e ci vediamo la prossima fate i bravi ok iscrizione al canale e la campanellina mi raccomando il 27 estrazione per il vincitore della maglietta mi raccomando ciao raga grazie a tutti